The Club è il primo outlet online del design, riconosciuto da brand di alta gamma. Innanzitutto The Club si differenzia dalle altre iniziative presenti perché è l'unica iniziativa voluta direttamente dai brand top del design italiano, in un contesto nel quale soprattutto si dice in Italia che le aziende difficilmente riescono a fare sistema, questo è un bellissimo esempio di come queste società si siano messe insieme e abbiano deciso di investire insieme in un unico progetto. Dall'altro lato si differenzia proprio perché essendo una iniziativa comune e voluta dai brand i prodotti vi presenti sono prodotti garantiti, al contempo il brand può mantenere il controllo sull'intera catena del valore e del posizionamento di prezzo dei propri prodotti su internet. Sempre per quanto riguarda i vantaggi i brand possono aumentare e controllare la propria brand awareness e per quanto riguarda invece l'ambito diciamo di generazione di fatturato e di aumento degli introiti fornendo questo strumento ai rivenditori di converso loro possono aumentare uno strumento in più per aumentare il proprio sell out. Questo ha effetti positivi anche sull'inserimento delle nuove campionature che aumentando il sell out facilita l'inserimento del sell in e quindi dei nuovi prodotti. Il progetto The Club consente ai rivenditori di superare i limiti geografici che il negozio fisico impone, aumentando così anche l'ampiezza delle isocrone dei rivenditori stessi. Oltre a questo i rivenditori beneficiano di un investimento che viene effettuato dai marchi ma che non è legato esclusivamente a una promozione della marca ma è proprio legato ad una promozione dei prodotti che sono presso i rivenditori. I rivenditori diventano per la prima volta un soggetto attivo nel processo di vendita e non solo un soggetto passivo. Soggetto passivo intendo il negozio nel quale i passanti e il pubblico entra. Con il sistema delle manifestazioni di interesse diamo uno strumento al singolo rivenditore per poter contattare direttamente i potenziali clienti. I vantaggi sono molteplici. Prima di tutto nel mare di internet esiste adesso un punto di riferimento dove trovare prodotti scontati ma al contempo garantiti dai brand. Dall'altro lato il consumatore finale ha la possibilità di accedere a migliaia di offerte ma in maniera totalmente semplice e geolocalizzata. Ovviamente un consumatore che abita in Lombardia vuole cercare un prodotto in offerta può cercarlo esclusivamente in Lombardia, filtrare tutte le offerte che ha per prezzo o per tipologia e quindi diciamo che The Club crea un canale veloce e conveniente per il consumatore finale. È chiaro che non si tratta di prodotti dei quali il consumatore può scegliere la finitura ma trattandosi di prodotti da esposizione sono comunque prodotti praticamente nuovi che il consumatore o l'amante del design può portarsi a casa a prezzi totalmente convenienti. Grazie a tutti!